Benvenuti a Death Mobility Radio, siamo tornati in podcast, lo sapete, ci trovate su Spotify, ci trovate su Google, su Android, su tutti i dispositivi. Siamo al Death Mobility, oggi live perché stiamo parlando di mobilità elettrica insieme ai nostri amici, ci sono parecchi espositori, un bel flusso, ieri c'è stato l'immobility report e oggi siamo, in questo momento siamo con B-Charge e con Marta Giampietro. Ciao Marta, ormai vecchia conoscenza, ci conosciamo, ci siamo già sentiti su Death Mobility Radio, ma adesso c'è qualcosa di interessante, al di là del vostro stand espositivo, che tra l'altro è veramente carino, vi invito ad andarlo a visitare, adesso c'è anche qualche novità in B-Charge, interessante. Oggi sono rimasto sorpreso perché ci siamo incontrati e ho detto, guarda che noi, oh come, me ne devi parlare. Cosa succede? Allora, innanzitutto abbiamo cambiato il nostro logo. Bam! Esatto. Dopo il passaggio del gruppo B-Power, ormai un SPA, abbiamo sentito la necessità di rinnovarci un attimo. Ok. Quindi, siccome siamo sempre stati amanti un po' delle trasformazioni e quello che facciamo ovviamente ne è una massima spiegazione perché comunque siamo un operatore di ricarica per i veicoli elettrici, quindi ci piace andare controcorrente. E di conseguenza abbiamo deciso di rinnovarci completamente e di adottare un nuovo logo che avesse anche delle nuove forme, che trasmettesse anche dei nuovi messaggi. Quindi tutto il gioco dei colori, abbiamo deciso di studiare a fondo i colori che potevano meglio rappresentare la nostra essenza e da lì abbiamo costruito appunto questo logo che in realtà è una voglia di fare, cioè è un po' il nostro company manifesto ormai perché rappresenta quello che vogliamo diventare, qualcosa in continuo movimento, qualcosa che si trasforma e qualcosa che vuole andare di nuovo controcorrente. Certo è che comunque questo non vuol dire rinnegare il passato, ma comunque mantenere esatto anzi la nostra identità perché il nome è sempre lo stesso e il gruppo è sempre lo stesso e in fondo siamo noi poi quelli che siamo sempre gli stessi appunto che non cambiamo mai. Però il tentativo di affacciarci di nuovo al mondo con anche un marketing differente, una comunicazione differente e dei colori diversi che sono anche dei colori che caricano abbastanza, non so se li hai visti. L'ho visto, allora li ho visti assolutamente e adesso voi sui social lo potete vedere perché ve lo facciamo vedere. Perché c'è stato un fuori ora ieri, quindi dovete assolutamente seguirci su tutti i canali social, facebook, instagram, linkedin e di conseguenza mettete like perché è bellissimo, c'è anche lo slow motion, quindi non potete mettere un like. Assolutamente, allora il lancio proprio di questo podcast sarà fatto molto visual, quindi noi faremo in modo che sia visto proprio anche sui vari canali. E su LinkedIn voi pubblicate costantemente molti aggiornamenti, questa piattaforma che sapete che anche Deaths Mobility Radio usa parecchio voi aggiornate un pochettino tutto quello che state facendo, questa è una bella rivoluzione, quella del logo è una bella rivoluzione che vi identifica, che come dicevamo prima non è uno strabo col passato, in realtà è una continuità, una cosa importantissima e poi vabbè tutto il campo di installazioni che state facendo. Sì, ormai in Italia siamo abbastanza radicati i capillari, devo essere abbastanza sincera. Abbiamo vinto anche ieri Napoli, poi vabbè un mese fa abbiamo ci siamo giudicati 50 colonnine a Rimini, quindi insomma viaggiamo alla velocità della luce. Le colonnine turistiche che bella, fantastico. Quindi oltre quelle che avevamo già in programma, insomma la nostra rete continua ad espandersi. Nostro piano di investimento è sempre più capillare perché lo sforzo che ogni volta ci ripromettiamo come operatori è quello di garantire che tutti si possano ricaricare su tutto il territorio nazionale, quindi non solo. Ciao. Esatto, be different e be power. Grande, grazie Marta. Grazie a te Dani. Ciao.